Bro, bro, bro! Ma sei imbecille? Ma hai inciampato Optimus Prime, stai calmo! Guarda che non l'ho ucciso io, SPAIA! Non l'ho ucciso io, Spider-Man! Stai buono! Prendete un bug, il più assurdo e stupido che voi abbiate mai visto. Ecco, adesso moltiplicatelo per un miliardo e otterrete questo video in VR su Blade & Sorcery. Io sono ancora confusissimo! Aiuto! Buona visione! Salve umani! Io sono Optimus Prime! Benvenuti in un nuovissimo video di Blade & Sorcery! Oggi sconfiggeremo praticamente tutti con delle armi moddate assurde! Ci sono anche le siringhe! Io adoro le siringhe! Non vedo l'ora di iniziare! Come già detto dal robottone all'inizio, ho scaricato delle mod veramente fuori di testa! Tipo questo braccio bionico! Se dai un pugno con sta roba, esplode la testa! Per non parlare della mia nuova ascia! Eh, sì! La mia nuova ascia! Ci sono anche le catane di Demoslayer! Guardate che figata! Sta roba è geniale! E poi, ovviamente, ci sono dei biscottini! Io adoro questi biscottini! Buonissimi! Ragazzi, non ci credo! Guardate che fantastica torre di biscottini ho creato! E poi ci sono queste siringhe cattivissime! Che tra l'altro è anche arrugginita! Ma sta roba fa malissimo! Voglio provarla su qualcuno! Perché non c'è Marcello quando serve? Oddio! Spider-Man! Come ho fatto ad ammazzarlo con un pugno? Stai buono! Stai calmo! Fermati! Devo provare su di te questa siringa! Piano! Non facciamo scherzi! Stai buono! Ma che stai facendo? Io sono da questa parte! Ma sei un imbecille! Direi che questa è la siringa mortale! Spider-Man! Lo vuoi un biscottino? Dai! Vieni a mangiare il biscottino! Vieni da papà! Su! Non fare il timido! Lo so che ti piacciono! E va bene! Tu non accetti i miei biscottini? Adesso ti ammazzo! Spider-Man scusami! L'ultima roba e poi ti giuro che non ti disturbo più! Ok? Perfetto! Grazie mille! Ma secondo voi... Quanto è forte questo pugno bionico? Beh! Direi abbastanza! Uh la la! Uh la la! Questo è il valzer del moscerino! Uh la la! Uh la... Stai buono! Ok? Oddio! Che paura! C'è il grande Spider-Man! Ops! Credo che Spider-Man stia morendo! Ops! Credo che Spider-Man sia appena morto! Ne vuoi anche tu? Qui sopra c'è il sangue di tuo fratello! Oh mio Dio! Ma c'è anche la pistola Digimod! Ma che figata! Questa è la modalità testa gigante! Vai! Oh! Perché non funziona? Non funziona! Non funziona! Non funziona! Ho detto che non funziona! Io sono il grande Harry Poggers! Ho preparato questa pozione magica! Mai mettersi! Mai mettersi contro il grande e... Contro il gra... Contro il grande Harry Poggers! Bro ma ti rendi conto? In un gioco per Oculus Quest c'è la mod del controller dell'Oculus Quest! Guarda che figo! Bello vero? Io nel frattempo mi mangio un buonissimo biscotti... Bro bro bro! Ma sei imbecille! Ma hai inciampato Optimus Prime! Stai calmo! Guarda che non l'ho ucciso io! Spaglia! Non l'ho ucciso io! Spider-Man! Stai buono! Che facciamo? Giochiamo a nascondino? Guarda che ti vedo imbecille! Sei alto 72 metri! Fatti sotto! Io ho le lame di Demon Slayer! T'ammazzo! Sono potentiss... Sono potentissimo! Ragazzi Optimus Prime mi ha rubato la spada di Demon Slayer! Ma come... Forse non ci siamo capiti! In questo gioco... Comando io! Ma secondo voi... Su Optimus Prime funziona la siringa velenosa? Beh... Immagino di sì! Senti io ho capito che eravate amici! Ma lui ha deciso di scontrarsi contro di me! Io non c'entro nulla! Risolviamola giocando a sasso carta forbice! Ok? Inizio io! Scelgo pistola! Megatron! Ti offro uno scambio equo! Facciamoci una bevuta e parliamone! Oh! Sto parlando con te! Io ti do il corpo di Optimus Prime e di Bubble Bee! Tu mi lasci stare! Non ho fatto nulla! Te lo giuro! È la guerra che vuoi! È la guerra avrai! Non fai più lo sbruffone adesso! Che cosa è successo? È sparito! E poi mi è ricomparso davanti! Dove eravamo rimasti? Ritorna nel tuo stramaledetto pianeta! E non tornare mai più! Fermo così! Perfetto! Addio invece! Vabbè ma non intendevo letteralmente! Ma allora mi prendi in giro? Come si dice in questi casi? A mali estremi? Estremi rimedi! Io non vorrei dire! Ma ti consiglio di guardare sopra di te! Dove è andato a fini- Come ci è arrivato lì sopra? Cosa- Ma che sta succedendo? Oh ma ti sposti? E direi anche basta! Questo sarà un duello all'ultimo sangue! Io contro Optimus Prime! Chi vincerà otterrà la gloria eterna! Chi perderà? Beh, sicuramente farà una bruttissima fine! C'è solo una regola! Combattere senza armi! Ossia a mani nude! Sì! Devo togliere anche il mio braccio bionico! Ho capito! Sono pronto! Fatti sotto! Oh oh oh! Hai una spada! Non va- Ragazzi ave- Che sta succedendo? Bro! Io- Io non ho- Io non ho parole! E comunque avevo detto niente armi! Adesso per punizione ti butti giù da solo! Ma io stavo scherzando! Ma io stavo scherzando! Io non ho parole! E comunque queste non sono armi! Neanche questo E neanche E E neanche questo Ha iniziato lui a barare Non mio Al prossimo video